...questo è un saggio del Twin Drift con due vetture vicinissime quello che vedremo più tardi nel pomeriggio con la gara intanto passiamoci in queste nuove in pista con il 252 e il numero 57 Manuel Vacca e qui possiamo ammirare quelle che sono le tre fasi che poi verranno valutate per il drift ovvero l'attacco quando l'auto viene messa di traverso da parte dei piloti poi la vicinanza da due macchine come abbiamo potuto vedere in questo momento e per finire l'angolo di sversata vi ricordo che non ci sono tempi per questa specialità soltanto dei punteggi assegnati in base a come i piloti gestiranno i vari clipping point che sono stati inseriti nel circuito ripartono nuovamente affiancati per il Twin Drift BMW M3 46 numero 52 di Adolfo Oliverio qui che ha spinto il campeonato per la categoria resta impegnato in questo momento con Manuel Vacca al volante di una BMW M3 E36 che ha spinto il nostro corso